Uno studente d'eccezione di cui si occupa tutta l'America è il 18e Roberto Wadlow, eccezionale per lo meno in merito alla statura che raggiunge i due metri e mezzo. Il giovane gigante che è assediato da offerte di impresari teatrali, a gloria della ribalta preferisce lo studio del codice, dei promettenti di diventare un grande avvocato. Per il momento però è costretto a farsi il più piccolo che sia possibile per adeguarsi ai suoi compagni.